buonasera 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 a tutti quanti è un po che mancavamo con le nostre nostre racconti le nostre serate online sul nostro canale sia in diretta che registrato per raccontarvi quelle che sono le nostre le tradizioni italiane le leggende i miti e anche i misteri bene questa sera torniamo sulle torniamo sulle nostre bellissime dolomiti per raccontarvi la storia del dragoon de sas lacrosque è chiaramente un un racconto che affonda le sue sue origini a qualcosa di molto antico non è una storiella per bambini anche se la si può raccontare bambini ma chiaramente gli antropologi hanno hanno trovato delle origini molto molto antiche per questi racconti si va addirittura a dei popoli paleo veneti quindi si va veramente indietro vado a leggere vela e poi ne parliamo dopo eventualmente molto breve ma è molto carina nell'oscurità di una crepa del sas lacrosque viveva molto tempo fa un drago molto pericoloso aveva la pelle di un serpente lunghe gambe che terminavano con artiglie guzzi e ampi e forti ali il drago possedeva una bocca talmente grande che con facilità riusciva a inghiottire una persona intera pensate nelle case sotto il sas lacrosque si usava a raccontare che il drago mangiasse qualunque cosa che osava avvicinarsi la sua cavità nella roccia una grotta i contadini non potevano più mandare il bestiame in alta quota a causa della ferocia del mostro ma nonostante ciò il drago arrivava usualmente alle stalle per sbranare pecore e altro bestiame il livello di allerta era talmente alto che i contadini preferivano patire un po di fame piuttosto che recarsi spesso nelle campagne a quei tempi nella valle di san vigilio di marebbe e più precisamente nel castello di brac viveva il gran bracun quest'uomo era conosciuto in tutta la valbadia per i suoi gesti eroici e per la sua estrema abilità nel maneggiare le armi di lui si diceva che possedeva una vista eccezionale che accompagnata dalla fermezza delle sue mani gli permetteva di colpire un cerbiato dall'altra parte della valle rispetto alla sua residenza i boschi di playas il gran bracun appena venne a sapere dell'esistenza del drago sul sas lacrosque impose a se stesso che un giorno lo avrebbe sconfitto una missione un giorno dopo aver sellato con cura il suo cavallo cavalcò fino ai margini dei boschi dove già molti arditi combattenti avevano dovuto sacrificare la propria vita con cautela si spinse fino alla crepa dove viveva la bestia il drago fino quando riuscì a udire i suoi pesanti respiri in un colpo d'occhio il drago sbottò fuori dal suo riparo con la bocca aperta mostrava i suoi denti aguzzi e lentamente si avvicinava al gran bracun gli occhi della bestia si tinsero di un rosso ardente ma il cavaliere non esitò ed estrendo la sua arma si buttò contro l'animale la battaglia fu breve ma molto intensa e alla fine il bracun il nostro eroe riuscì a perforare il cuore del drago l'animale urlava dal dolore e i suoi bruschi movimenti lo fecero in poco tempo cadere dalle rocce le sasla crusche senza dirlo nessuno il gran bracun ritornò alla sua residenza e solo molti anni dopo un contadino di badia ritrovò per caso le ossa del drago in quel posto c'era fino a non molto tempo prima un insegna per ricordare la buona azione del gran bracun che liberò la popolazione di badia dalla pianura francesca villem de brac conosciuto con il nome di gran bracun è una persona realmente esistita in val badia pensate discendente della nobile famiglia di brac di marebbe francesca villem morì nel 1582 per mano di un crudele assassino nei pressi di corvara il sanguinoso evento turbò fortemente la popolazione ladina al punto che questa iniziò a vedere nel gran bracun un cavaliere eroico e a confondere leggenda e realtà questo accade nella leggenda ladina sopracitata e nel racconto del salt de fanes che leggeremo ovviamente un'altra volta bene cari amici ecco questo è la il racconto di questa sera vi invito a sognare con noi a viaggiare in questi posti vi ricordiamo che storia d'italia fa parte del network di cui al suo interno c'è radio bunker il nostro podcast che racconta l'italia se avete delle leggende del vostro posto della zona dove vivete delle tradizioni e quant'altro non esitate a inviarcele a info chiocciola radiobunker punto it noi le leggeremo per voi qui sul nostro canale youtube mi raccomando noi vi salutiamo vi auguriamo che il vostro sabato notte sia meraviglioso e ci sentiamo qua su storia d'italia o su radio bunker buona serata e grazie di averci seguito